Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video, oggi inizio questo video completamente struccata perché andiamo a fare il nostro make up assieme con i prodotti make up di Chiara Ferragni Ho preso tutti i prodotti disponibili, quindi la eyeshadow palette, la palette di ombretti, devo dire che il packaging mi piace un sacco, mi piace tantissimo il rosa come sapete, mi piacciono moltissimo anche i dettagli dorati sulle scatoline E poi qui davanti c'è il logo classico Chiara Ferragni, davvero molto molto belle, ed eccola estratta dalla confezione la nostra palette di ombretti, veramente pack stupendo rosa glitterato, adoro, un po' simile diciamo, un po' richiama il pack della sua collezione che aveva fatto con l'Ancom la prima Anche le confezioni di quella collezione erano rosa glitterate, questi i colori presenti nella palette sono veramente molto molto belli, delle scelte un po' diciamo particolari come ombretti Ma devo dire che mi piacciono un sacco, specialmente mi colpisce subito questo verde smeraldo glitterato e anche questo rosa è molto molto bello Questo è il blush, anche questo molto molto carino, il pack sempre stesso stile e questo è invece il colore, questa è la cialda, io ho preso la colorazione 01 Blush Me Up Che è un colore pesca satinato Poi c'è il brow gel, un gel trasparente per sopracciglia, mi sono stupita a vederlo tra i prodotti e mi incuriosisce molto Mascara stesso packaging rosa glitterato con il brand scritto sopra e lo scovolino promette molto bene perché la mia preferenza sono questi appunto con setole corte in silicone Quindi secondo me sarà un ottimo mascara E naturalmente ho preso anche uno dei tre rossetti disponibili nella collezione, ho preso quello più ricercato di tutti Che è questo rosso glitterato davvero stupendo Molto carini anche i mini logo, la stellina e il logo con l'occhio stampati sullo stick E appunto anche il pack del rossetto mi fa impazzire in più questo colore, questa tonalità Cioè guardate quanto luccica, guardate quanto è bello Da vedere è veramente il rossetto natalizio perfetto Prima di iniziare in realtà con il make up e avrete notato non ci sono tutti i prodotti completi per il make up Quindi la base e altri prodotti li utilizzeremo di altri brand Iniziamo con la skin care prima di passare ai prodotti da trucco Inizio con il contorno occhi, questa è la crema contorno occhi con acido ialuronico a 5 pesi molecolari di Lab Care Questo è un ottimo contorno occhi che idrata bene la zona e si può utilizzare sia la mattina che la sera anche sotto il make up E poi idratante viso vado ad applicare la mia crema con microsfere rosse di Lab Care E vado a prelevare un pochino della mia crema E vado ad aggiungere qualche goccia del mio acido ialuronico complex sempre a 5 pesi molecolari di Lab Care Sono delle gocce di acido ialuronico che vado a mescolare alla mia crema idratante Questo acido ialuronico in gocce è fantastico perché si può utilizzare sia da solo che mischiato a qualsiasi crema per il viso E come sapete l'acido ialuronico è molto molto importante, va incorporato, me lo chiedete spesso Già da giovanissimi va incorporato nella skin care perché aiuta a mantenere l'idratazione sulla nostra pelle a lungo Quindi va sempre accompagnato ad un idratante e va utilizzato da subitissimo Appena iniziate con la skin care incorporate subito l'acido ialuronico E per Lab Care se volete acquistare i prodotti del brand ricordatevi di utilizzare il mio codice sconto Ne ho uno nuovo per voi e Kiss40 e vi da il 40% di sconto su tutti i prodotti del sito Se fate una spesa minima di 79 euro che però va ancora scontata poi del 40% Trovate naturalmente come al solito il link a Lab Care qua sotto nel box informazioni Adesso base makeup nella collezione Chiara Ferragni non ci sono fondotinta correttori primer Vado quindi ad utilizzare il mio primer di Benefit, questo è il The Porefessional versione Pearl E poi come fondotinta questo di Clinique, questo è l'Anti Blemish Solution Ok base fatta e ho applicato anche un po' di terra, ho fatto un po' di contouring Adesso possiamo passare al primo prodotto che utilizzeremo oggi di Chiara Ferragni che è il blush Non posso smettere di guardare questo packaging sbrillocicoso, mi piace troppo E anche il fatto che sia comunque tutto metallizzato rosa, bellissimo Preleviamo il nostro blush, è un colore molto bello secondo me Devo dire è molto naturale, si vede decisamente che è un po' brillante, è un po' shiny questo blush Preferisco personalmente i blush ad effetto opaco ma va assolutamente a gusti Passiamo quindi alla nostra palette di ombretti E andrò ad utilizzare penso questi due marroncini Uno opaco, l'altro più chiaro glitterato e poi questo verde smeraldo che mi ha colpito subito E devo assolutamente provarlo in questo video Iniziamo proprio con Oh Wow che è questo brillantinato marroncino E andiamo ad applicarlo sulla palpebra mobile Non sto applicando una base sotto altrimenti naturalmente l'ombretto sarebbe molto più scrivente Ma wow, beh devo dire che come scrivenza non è assolutamente niente male Guardate che roba, un po' di fallout decisamente polverosi Ma colore imbattibile Adesso prendo Dream It, questo marroncino opaco Lo applico nella piega dell'occhio salendo un pochino con il colore Non rimango nella piega ma vado un pochino più in alto perché poi all'interno della piega Applicheremo un altro colore un po' più scuro Vado a portare l'ombretto anche un po' verso l'esterno Ragazzi mi sa che è tantissimo che non mi trucco con voi in videocamera Posso dirvi che mi mancava? Cioè mi sto rendendo conto in questo momento che era veramente un po' che non mi trucco con voi Io in qualche vlog o in qualche video proprio dedicato al make up Mi è mancato? Adesso prendo Night Out, quest'altro marroncino Sempre opaco però decisamente più scuro rispetto all'altro Lo applico soltanto all'interno della piega Restando vicina alla palpebra mobile Devo dire che la qualità di questi ombretti è veramente alta Sì sono un pochino polverosi ma la scrivenza sia dei colori glitterati che dei colori opachi matt È pazzesca In realtà non sono andata a vedere che cosa dicono gli altri influencer di questa collezione Quindi fatemi sapere se poi la pensano anche gli altri come me Ma decisamente gli ombretti mi stanno piacendo un sacco Adesso pennellino a penna e vado finalmente a prelevare il nostro verde glitterato Andremo ad applicarlo sulle ciglia inferiori Se non stessimo testando questi prodotti per vedere la qualità, la resa eccetera Andrei prima a stendere una matita verde per fare da base al nostro ombretto Ma siccome voglio vedere com'è la scrivenza senza metterci sotto nessun primer colorato Appunto non andiamo ad applicare nulla Andiamo direttamente a stendere il colore lungo le ciglia inferiori Questo tra l'altro è un trucco che sta bene sia sugli occhi chiari che sugli occhi scuri Per quanto mi riguarda Quindi potete riproporlo molto molto facilmente Devo dire ragazzi che anche questo verde mi lascia senza parole Cioè una passata veloce senza alcun tipo di primer sotto Ok mi sta lacrimando un po' l'occhio perché questi glitterini Quando mi finiscono negli occhi un pochino mi danno fastidio Però mi succede con un po' con tutti gli ombretti in glitter Anche questi purtroppo non sono un'eccezione Però guardate la scrivenza e la sbrillucicosità di questo ombretto ragazzi appunto Senza nessuna base sotto Wow Mi sto rendendo conto in questo momento tra l'altro Anche qui abbiamo un po' di fallout che devo andare a togliere Mi sto rendendo conto in questo momento però che sto usando un ombretto verde E poi dovremo applicare il rossetto rosso Perché appunto ho preso il rossetto rosso Quindi non mi farà impazzire questo abbinamento Ombretto verde e rossetto rosso Ma volevo troppo testare sia questo ombretto verde Che naturalmente poi anche il rossetto Quindi sì Non mi farà probabilmente impazzire l'abbinamento Ma adesso andiamo a sfumare il tutto Poi prendiamo So Shiny l'illuminante più chiaro presente nella palette E vado a stenderlo sull'angolo interno dell'occhio Per illuminare lo sguardo Fa veramente tantissima tantissima differenza l'illuminante applicato in questa zona E poi ne applichiamo un pochino anche sotto il sopracciglio Potrei questo illuminante andare ad applicarlo anche in altre zone Come ad esempio sopra gli zigomi Oppure sull'arco di cupido Ecco forse qui sull'arco di cupido Leggermente sopra le labbra possiamo applicarlo Non lo applico sopra gli zigomi Perché negli ultimi giorni ho la pelle particolarmente grassa E quindi effetto lucido assicurato Però in questa zona mi piace molto Ed è sicuramente un buon illuminante Purtroppo in questa collezione non sono presenti Né eyeliner né matite di alcun tipo Quindi vado ad applicare appunto L'eyeliner nero di un altro brand Questo è di Essence E poi vado ad applicare anche la matita nera all'interno dell'occhio Sia sulla rima superiore che su quella inferiore E uso questa matita di We Makeup Passiamo finalmente al mascara Questo è la Iconic Appunto impazzisco per il pack di questi prodotti Sono molto curiosa di vedere com'è questo mascara Perché appunto di solito i mascara con questo tipo di scovolino mi piacciono un sacco Allora mi piace un sacco che non si formino assolutamente grumi Pettina molto molto bene le ciglia Le allunga molto bene ma non le volumizza tantissimo È più un effetto allungante Le separa molto molto bene Però appunto non vedo un effetto molto voluminoso Per le sopracciglia l'unico prodotto disponibile è il brow gel di questa collezione Io però devo andare assolutamente a colorarla e a riempire gli spazietti vuoti Quindi vado ad usare il mio cabrow di Benefit Fatto adesso possiamo testare il brow gel Beh rilascia molto prodotto devo dire perché sono quasi bagnate Quindi ne basta veramente veramente poco Devo dire che le mie sopracciglia tendono a crescere molto dritte Quindi è estremamente difficile con un brow gel farle stare in posizione C'è proprio verso l'alto tipo lash lift tipo eyebrow lift Quindi per quanto mi riguarda posso soltanto pettinarle un po' verso l'esterno E non mi sembra affatto male appunto Ne ho sicuramente applicato troppo Forse è l'applicatore che rilascia veramente tanto prodotto Quindi andate magari appunto a togliere l'eccesso prima di applicarlo Tutto sommato mi piace molto come prodotto le pettina molto molto bene Mettetene di meno magari però sì le pettina molto molto bene E rimangono così in posa Anche se naturalmente il brow gel va giudicato dopo un'intera giornata Per vedere se le sopracciglia sono ancora in posa Quindi vi farò sapere come si comporta E adesso l'ultimo prodotto che ci manca è lui il famosissimo rossetto La tonalità è la 01 All That Glitter Infatti è super super glitterato Cioè è innegabile che sia meraviglioso Cioè stupendo Se mi seguite su Instagram sapete che ho già applicato questo rossetto L'ho già testato e avete già visto un'anteprima diciamo E questo è il risultato del rossetto applicato Si vede che è molto glitterato Però secondo me nello stick sembra più glitterato di quello che è nella realtà Tutto sommato ragazzi il colore è stupendo È veramente un rosso bellissimo Però come vi dicevo su Instagram il mio pensiero è che sia un rosso molto più adatto a chi ha un sottotono caldo Io che ho un sottotono molto freddo non penso di stare particolarmente bene con questo rossetto Perché ha un sottotono molto aranciato e molto aranciato come rosso Su di me stanno molto meglio i rossi più freddi Con una base blu piuttosto che aranciata Quindi non mi sconfiffera tantissimo purtroppo sulla mia carnagione Però rimane un colore bellissimo Cioè questo è innegabile Sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi Avete acquistato qualcosina di questa collezione O avete in mente di acquistare qualcosina Se sì fatemi sapere cosa Cosa vi è piaciuto di più tra tutti i prodotti che abbiamo testato Fatemi sapere tutto nei commenti Perché li leggo sempre sempre tutti Per quanto mi riguarda appunto Il rossetto mi piace ma la tonalità decisamente non è per me È sicuramente il prodotto top di questa collezione Parere mio è la palette di ombretti Sia il pack che i colori Gli ombretti sia per quanto riguarda la pigmentazione Che per quanto riguarda la brillantezza I glitter insomma Sono degli ombretti fantastici Quindi mia family questo è quanto per il video di oggi Per i prodotti Chiara Ferragni Fatemi sapere tutto nei commenti Sono molto curiosa di sentire i vostri pareri Un bacio grandissimo come al solito Siete pronti per il nostro abbraccio finale Aspettate che mi avvicino Pronti per il nostro abbraccio Venite qua che vi abbraccio forte 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 Bacio grande e ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.